Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Taglio del nastro per i varchi anti-covid dagli ospedali di Torrette e Salesi di Ancona accessi controllati con scanner per la temperatura e uso delle mascherine Sicurezza in mare, ecco le regole per evitare pericoli e malori in acqua Elezioni regionali, Maurizio Mangialardi chiede l'alleanza ai 5 Stelle il centrodestra all'attacco è andato in crisi dopo aver letto i sondaggi Il bonus vacanze arriva via app, da domani al via le richieste per i viaggi in Italia a Fano aderisce il 70% degli alberghi Meduse giganti sulla riva di Torrette a Fano, l'esperto rassicura sono esemplari innocui e sinonimo di acque pulite Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione Un altro incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Montebello a Monteporzio Siamo sempre in provincia di Pesor Urbino e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano che già nella giornata di ieri erano andati nello stesso punto per domare le fiamme che hanno invaso oltre 10 ettari di terreno agricolo Questa volta però l'incendio si è limitato soltanto a pochi ettari bruciando soltanto alcune sterpaglie Dopo gli ultimi decessi registrati nelle spiagge di Fano e Marotta oggi abbiamo sentito l'associazione dei bagnini che ci ricorda quali sono le regole da seguire e da rispettare quando si è in mare Sono due i decessi avvenuti la scorsa settimana nelle spiagge di Fano e Marotta il primo mercoledì pomeriggio intorno alle 17 quando a Torrette ha perso la vita un turista di 83 anni a 50 metri dalla riva A dare l'allarme è stata la moglie che lo ha visto riverso in acqua nonostante il tempestivo intervento dei bagnini che hanno provveduto anche alle manovre di rianimazione purtroppo l'uomo è deceduto a causa di un arresto cardiaco Il giorno successivo verso le 20 un'altra tragedia a Marotta nel comune di Mondolfo Paola Gervasi, 67 anni del posto, è stata accolta da un malore dopo una notata la donna si è accasciata a terra sulla battigia e anche qui è subito scattata la macchina dei soccorsi ma per l'insegnante in pensione non c'è stato nulla da fare In entrambi gli episodi sventolava la bandiera rossa che viene issata anche se le condizioni meteomarine sono buone ma non sono presenti i bagnini di salvataggio rimane fondamentale quindi rispettare il decalogo del bagnante a ricordarlo è l'associazione Mare Dentro Quando c'è la bandiera rossa evitiamo di andare in mare se abbiamo delle condizioni particolari dove non stiamo bene noi evitiamo di andare in mare perché poi oltre a mettere in rischio la nostra incolumità mettiamo a rischio anche l'incolumità di chi deve venire a soccorrerci purtroppo bisogna cambiare anche il discorso a livello proprio di cultura del salvataggio e del soccorso e sono diverse le regole da rispettare tra queste entrare in acqua gradualmente dopo una lunga esposizione al sole lasciare trascorrere almeno tre ore dall'ultimo pasto prima di fare il bagno evitare lo sforzo fisico e non oltrepassare il limite delle acque sicure segnalato dalle boe bianche inoltre non allontanarsi oltre i gavitelli rossi che delimitano la zona di sicurezza per la bagnazione ampia 300 metri e comunque evitare di allontanarsi dalla spiaggia oltre 50 metri usando materassini, ciambelle o canotti gonfiabili sì è importantissimo perché comunque poi ogni stabilimento sia gli stabilimenti quelli in concessione che le spiagge comunali hanno comunque un regolamento da rispettare che parte se noi rispettiamo questo regolamento non è che facciamo un dispetto a qualcuno facciamo un favore a noi stessi e poi ci godiamo di più l'estate Mare Dentro che è un'organizzazione di volontariato di protezione civile si occupa di salvataggio primo soccorso formazione promozione degli sport acquatici inoltre quest'anno si è attrezzata anche con una moto d'acqua dotata di barella e di ossigeno medicale l'aquabike servirà ai volontari per intervenire in collaborazione e in supporto della guardia costiera di Fano in caso di emergenza in mare è sempre attivo il numero 1530 mentre chi volesse sostenere l'associazione Mare Dentro può consultare l'omonima pagina Facebook per chi ci vede da fuori Fano fuori Marche venite nelle Marche a fare le vacanze specialmente a Fano perché a Fano abbiamo un'infinità di mezzi per il discorso del salvataggio a partire dalle moto d'acqua che abbiamo sia guardia costiera che le altre associazioni come Mare Dentro altri mezzi quindi siamo in sicurezza dobbiamo soltanto cambiare il discorso dell'approccio con le regole da rispettare che vi ripeto sono talmente poche che non bisogna fare cose complicate per goderci una vacanza bellissima in questa splendida regione e specialmente a Fano Contro il coronavirus arriva la tecnologia ed è una tecnologia a servizio di questa fase cosiddetta 3 il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli e il direttore generale degli ospedali riuniti Michele Caporossi hanno inaugurato il nuovo sistema di accesso negli ospedali di Torrette Salesi e Villa Maria di Ancona per controllare gli ingressi sono stati installati i termoscanner che rilevano la temperatura corporea e l'uso delle mascherine i dispositivi leggono il volto delle persone e comandano l'apertura o il blocco del varco una tecnologia semplice ma efficace ha spiegato Ceriscioli per rendere il flusso di visitatori più veloce e garantire sicurezza ai cittadini sentiamo le dichiarazioni del governatore presente al taglio del nastro Tecnologia semplicissima si va su un bollino si guarda una telecamera a pochi secondi viene letta la temperatura e si apre una porta è chiaro che i primi giorni vedi tutti un po' sconcertati perché sembra più l'ingresso da un aeroporto che da un ospedale però anche un modo per gestire in maniera efficiente e sicura gli ingressi nelle nostre strutture è un segno anche questo di attenzione nei confronti dei cittadini la determinazione di un flusso rapido importante e soprattutto la sicurezza quando si entra che chi è entrato il minimo controllo l'ingresso ce l'ha poi sappiamo bene che oggi prima di fare prestazioni complesse viene fatto il tampone ieri abbiamo deliberato per essere sicuri perché per noi era chiaro che non si applicava il ticket ma non si sa mai meglio deliberarlo per chiarezza quindi senza pagare ticket niente per poi continuare nella filiera della sicurezza quando si acceda all'interno della struttura insomma tutte misure che accompagnano questa fase e penso trasmettono l'idea di efficienza di tecnologie di modernità ma anche soprattutto di attenzione per le persone abbiamo deliberato 5 milioni di euro sia per gli investimenti tecnologici come quello che avete visto sia per incrementare il numero di visite si tratta di attività extraorario la sera il sabato in cui casi anche la domenica con un po' tutto quello che è più utile per poter recuperare dalla diagnostica pesante all'attività ambulatoriale di visite quindi un incremento importante di prestazioni per recuperare quello che si è perso in questi mesi è chiaro che ci voleva un margine di tempo per potersi riorganizzare e non era una cosa immediata e spero che molti l'hanno capita e così come la regione non ha fatto mancare la propria spinta per la volontà di andare a dare una risposta a tanti che lo chiedono con un minimo di pazienza un impegno importante segnalo anche che ieri è stata la giornata di formazione per le farmacie 800 farmacisti comunali privati sparsi in tutta la regione si sono profilati per poter prendere la prenotazione direttamente in farmacia è un altro aspetto diciamo più prestazioni da una parte ma anche più facile prenotare io sono convinto che soprattutto per la fascia di popolazione più debole più fragile poter andare in farmacia e fare lì anche la prenotazione sia una grande risorsa Maurizio Mangialardi lancia un appello per stringere un'alleanza con il Movimento 5 Stelle il candidato del centro-sinistra a governatore delle Marche durante una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica si è rivolto a Vito Crimi il successore di Luigi Di Maio dicendogli facciamo un patto di programma l'avversario da battere ha precisato è uno della destra nostalgica non possiamo dividerci le reazioni degli avversari non si sono fatte attendere e c'è già chi parla di caccia alle poltrone e chi sostiene che Mangialardi sia andato in crisi dopo aver letto i sondaggi che darebbero il centro-destra in vantaggio torniamo adesso in spiaggia per andare e parlare di meduse cosiddette giganti che sono state trovate in gran numero sulla spiaggia di torrette a Fano dopo la segnalazione di uno dei nostri reporter di strada abbiamo sentito l'esperto il professor Corrado Picinetti che però rassicura i bagnanti si tratta di esemplari innocui meduse giganti sulla riva di torrette sorpresa e incredulità per i bagnanti che in questi giorni frequentano la spiaggia a Fano Sud questo video realizzato da un nostro reporter di strada testimonia i tanti esemplari lungo la battigia a spiegarci il fenomeno è il professore Corrado Piccinetti direttore del laboratorio di biologia marina e pesca di Viala Adriatico professore intanto che tipo di meduse sono? queste meduse sono due grosse meduse che ci sono e sono le uniche due specie che ci sono uno è il polmone di mare che raggiunge 20 cm in circa come diametro ed è più o meno lunga quanto è larga un'altra invece che è un pochino più tozza più cosa la cotilorizza ma più o meno diciamo raggiunge le stesse dimensioni la differenziazione c'è non tanto per il colore che è tutta la parte inferiore tutte e due hanno una colorazione azzurra ma è dalla parte superiore ossia uno ha un cappello che è quasi liscio l'altro c'è un cappello che ha una specie di bombetta al centro che è praticamente una cupolotta che gli risale sopra però sono dal punto di vista biologico molto simili sono innocue oppure sono urticanti? diciamo possono essere leggermente urticanti ossia non danno mai fastidio molto fastidio almeno perché il corpo tutta la parte sopra non è assolutamente urticante quello che può essere leggermente urticante è la parte sotto quella che loro utilizzano per acchiappare il cibo perché devono mangiare quindi per mangiare tutte le meduse hanno un sistema di acule piccoli acule che vengono iniettati per catturare le prede e queste prede poi evidentemente si passa su un braccio di una persona ma in genere non ci sono segnalazioni di grossi danni queste meduse prosegue il professore vivono circa 14-16 mesi e di solito la morta avviene poco dopo la riproduzione di certo la loro presenza è sinonimo di acque pulite quando arrivano ad essere spiaggiate alla fine della loro vita evidentemente loro sono degli organismi che non hanno una grandissima capacità di nuoto anzi si spostano di qualche metro qualche decina di metri in particolare tra il giorno e la notte di notte vengono verso la superficie di giorno ritornano nella massa d'acqua vivono in mare aperto quindi sono tipiche delle acque di mare aperto e sono portate dalle correnti in genere sono molto più abbondanti del Mediterraneo orientale e poi quando siamo nel periodo più vicino all'estate da maggio in poi con le correnti che entrano in Adriatico dal Mediterraneo orientale sono trasportate quindi ce ne sono di più in genere lungo la costa croata che non dalla parte italiana ma essendo portate dalle correnti ogni tanto queste correnti fanno un piccolo giro di ritorno e quindi trasportano anche le meduse quindi io direi le meduse non le vedrei sempre come un pericolo una minaccia eccetera come le volte molti di noi sono abituati a vedere perché se fanno il bagno gli danno fastidio ma teniamo conto che la loro presenza è un indice validissimo di presenza di acque del largo sono acque che vengono dal mare aperto quindi lontano dalle coste lontano dalle fonti di inquinamento lontano da qualunque scarico fluviale o industriale che sia quindi sono sinonimo di acqua pulita evidente le acque pulite portano gli organismi delle acque pulite che sono queste meduse all'istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro sono iniziati i lavori per sostituire la copertura del tetto della palestra il telo era ammalorato l'intervento era previsto già prima dell'emergenza coronavirus detto il presidente della provincia Maurizio Bartoli abbiamo programmato anche il rifacimento degli impianti elettrici l'intervento per un importo complessivo di 60 mila euro si concluderà il prossimo 18 di luglio da domani in Italia si potrà usare il bonus vacanze non tutti però sfrutteranno l'agevolazione prevista dal decreto rilancio troppa burocrazia e incertezze intanto gli alberghi di Fano vanno in controtendenza il 70% degli hotel aderisce all'iniziativa bonus vacanze a patto di scegliere un luogo di villeggiatura in Italia è una delle novità previste dal decreto rilancio per aiutare l'economia a rialzarsi dopo l'emergenza covid-19 l'agevolazione scatterà dal primo luglio ed è rivolta ai nuclei familiari con un reddito isee non superiore a 40 mila euro inoltre è destinata al pagamento di servizi offerti da imprese turistico-ricettive agriturismi e bed and breakfast il bonus spetta nella misura massima di 500 euro 300 se il nucleo è composto da due persone e 150 euro per i single quest'anno andrete in vacanza? speriamo di sì avete già pensato la destinazione? c'è una retrate che non ci ha fatto partire il mese di marzo quindi dove? a Tenerife perché in Italia non c'è possibilità quindi niente bonus vacanze si va all'estero? è tutta una farsa il bonus vacanze abbiamo sentito già l'agenzia buongiorno buongiorno di dov'è? sempre di Ferrara come mai qua a Fano? perché si sta bene c'è un difetto che la gente qui ingrassa si mangia troppo bene quindi non è la prima volta che viene qua? sono già quattro anni che vengo qui e ci starei anche negli anni futuri bisogna vedere un pochino le cose come vanno ha utilizzato il buono vacanze? no è stata fatta la richiesta giusta perfetta nulla da dire però è inutile stare lì a chiedere delle cose che altri potrebbero usufruirne insomma per richiedere il bonus bisogna scaricare io l'applicazione alla quale si accede con Speed il sistema pubblico di identità digitale o carta di identità elettronica che a sua volta genera un codice il cosiddetto QR code da presentare alle strutture ricettive quest'anno si farà la vacanza signora? io non la faccio la vacanza no rimani in città? sì come mai? per paura ancora non si rispettano le norme? sì le norme è una toccata all'altro quando si cammina quindi ancora c'è un po' di preoccupazione e si preferisce rimanere nella propria città? sì quest'anno andrete in vacanza? no niente vacanza invece andrà in vacanza? no no questa è la mia vacanza è qui sotto sono nato qui e rimango qui siete di Fano? no siete in vacanza? perfetto di dove? noi veniamo da Parma da Parma? sì avete scelto la città di Fano per quale motivo? perché ce l'hanno indicata degli amici che vengono tutti gli anni qua avete usufruito del buono vacanze? no 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 un po' troppo complicato il procedimento? l'abbiamo diciamo lasciato perdere perché magari non siamo ben informati abbiamo fatto tutto di fretta perché di solito le nostre vacanze non sono quelle di giugno ma sono ad agosto quindi è stata una cosa così diciamo molto affrettata il bonus che potrà essere usato fino al 31 dicembre dovrà essere speso in un'unica soluzione a Fano gli alberghi vanno in controtendenza rispetto ai dati nazionali circa il 70% aderisce all'iniziativa noi lo accetteremo volentieri tutti gli operatori accetterebbero l'importante è di avere questo scambio con le banche di presentare il buono vacanze e cambiarlo in denaro liquido noi abbiamo degli istituti di credito che ci accettano questo buono vacanze naturalmente pagando le piccole commissioni noi siamo tutti favorevoli a questa cosa i vari turisti vi stanno chiedendo informazioni sul bonus? sì naturalmente non è che tantissimi perché tu sai che la prassi per avere questo buono vacanze deve essere l'ISEE tutti questi calcoli che devono fare però io sono contentissimo che la gente chi può faccia le vacanze perché con tutto quello che abbiamo passato in Italia abbiamo bisogno di vacanze avete prenotato qualche vacanza? più o meno sì diciamo che quest'anno abbiamo prenotato tre o quattro giorni da amici sui Monti Sibillini basta ma lì più in là e in se va avete sentito di questo bonus vacanze lo utilizzerete oppure no? non lo utilizzeremo perché utilizziamo la casa di questi nostri amici sui Sibillini senza fare tante domande tante così in generale che cosa ne pensate di questa opportunità che il governo dà agli italiani? mi sembra un'ottima cosa anche perché siccome there is no trip for cats come dicono gli inglesi che non c'è trip per gatti avere una possibilità in più di avere qualche soldino da spendere comunque in meritate vacanze in Italia soprattutto anche perché diciamo che se gli stranieri vengono a vedere l'Italia ne sono contenti non vedo perché noi italiani ci dovrebbe fare schifo il nostro bellissimo paese e adesso andiamo a Colli al Metauro dove ha la sede il Museo del Bali che dopo la chiusura forzata ha riaperto i battenti il Museo del Bali ha riaperto le porte dopo il periodo di fermo dettato dall'emergenza sanitaria il museo ospitato in una villa settecentesca nel comune di Colli al Metauro che vanta nove sale per altrettante tematiche suddivise tra percezione fisica onde luce forze elettromagnetiche e matematica scienza della terra della vita e astronomia è pronta ad offrire iniziative ai visitatori abbiamo riperto con il sostizio d'estate che è stata una data simbolica per noi perché essendo un museo astronomico abbiamo così scelto ci è venuta poi un po' per caso ma è venuta bene questa coincidenza con il giorno più lungo dell'anno da un punto di vista astronomico e per adesso abbiamo deciso di aprire la sera il sabato e la domenica con la possibilità di visitare le sale e di mettere l'occhio ai telescopi sempre e tutto in completa sicurezza perché abbiamo predisposto ingressi contingentati prenotazione obbligatoria tra l'altro abbiamo anche un gioco che abbiamo intitolato Fuga dal museo perciò anche le persone che già conoscono il museo del Bali che vogliono venire a trovarci si avranno a disposizione un gioco nelle sale una specie di una caccia agli indizi che potranno effettuare grazie all'uso del loro smartphone e con dei QR code che sono sparsi un pochino nelle sale ci stiamo preparando per fare poi eventi estivi anche sfruttando il parco Novità assoluta è la nuova strumentazione della stanza planetario ad alta tecnologia che permette ai visitatori di immergersi alla vista di suggestivi spettacoli guidati che permettono di osservare costellazioni pianeti e di parlare di argomenti di astronomia orientamento e mitologia La stanza costituita da una cupola di 8 metri di diametro conta una sessantina di posti a sedere sotto ma per le regole di distanziamento sociale potranno accedere soltanto una ventina circa di persone Sabato 11 luglio inaugureremo il nuovo planetario del Museo del Bali abbiamo infatti sostituito la macchina ottica che avevamo addirittura da prima dell'inizio dell'inaugurazione del museo nel 2004 quindi era già in funzione all'epoca l'abbiamo sostituita con una macchina digitale possiamo rispondere al telefono però quello che io consiglio a tutti è mandare una mail a info chiocciolomuseodelbali.it a cui risponderemo e dirotteremo eventualmente i visitatori nei canali più indicati per trovare le informazioni che servono e purtroppo nel calendario degli eventi estivi va depennata anche la tombola di San Paterniano l'iniziativa che ogni anno si svolge il 10 luglio in occasione della festa del patrono di Fano a causa dell'emergenza Covid-19 non si farà a darne notizie è l'associazione La Persic che organizza l'evento oltre all'incertezza sull'evolversi della pandemia spiega lo staff in una nota sarebbe stato difficile raccogliere i contributi degli sponsor che insieme al Comune di Fano hanno sostenuto lo spettacolo nelle scorse edizioni chi volesse sostenere la mensa di San Paterniano a cui andavano i proventi della serata potrà farlo depositando un'offerta nell'apposita cassetta all'interno della Basilica e con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale l'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa occhio ai giornali arrivederci a Grazie a tutti.